Il fantasma torna ad alleggiare delle parti di piazza Pirandello, si aggira attorno a Palazzo dei Giganti. Per la verità non è la prima volta, anche se adesso il rischio che possa materializzarsi si è fatto davvero concreto. Da oltre dieci anni bussa la porta, ma poi in qualche modo, anche con escamotage tecnico-contabile, è stato a più riprese, respinto e allontanato. Ora quel fantasma è tornato all'attacco, a farsi sotto e a lanciarlo ad agrigento sotto forma di dissesto finanziario. Potrebbe essere nei prossimi giorni la Corte dei Conti, che sta analizzando le criticità dei conti in riferimento al rendiconto 2015 e al bilancio previsionale 2016. Le valutazioni partono dalla mancata adozione delle prescritte richieste lo scorso anno misure correttive. Gli accorgimenti, invocati allora dai giudici contabili, non trovarono riscontro. Arrivarono in aula, ma poi tornarono indietro agli uffici perché privi del parere positivo dei revisori dei conti. La linea dell'amministrazione è stata quella di calare direttamente gli aggiustamenti ai conti nel bilancio previsionale 2017, non ancora approvato, sul quale si gettano pesanti ombre. A questo punto sarà fondamentale conoscere l'esito della Corte dei Conti per capire come si muoverà e soprattutto cosa deciderà. Al Comune di Agrigento si è in trepida attesa due le possibili soluzioni. La prima, la Corte dei Conti potrebbe rilevare le criticità e chiedere misure correttive giornate da adottare entro 90 giorni, con la conseguenza di dover smontare lo schema del bilancio previsionale 2017 e dunque per i necessari tempi il Palazzo dei Giganti verrebbe esposto al rischio commissariamento. La seconda possibilità, la peggiore, ma forse la più reale, è quella che la Corte dei Conti rilevi criticità strutturali non risolvibili per risanare le casse. In questo caso la richiesta dei giudici potrebbe essere esplicitamente quella di ricorrere al dissesto finanziario. E intanto si accende lo scontro dentro Aula Sollano. La Presidente Daniela Catalano risponde piccata alle critiche mosse nei giorni scorsi dalla consigliera Nuccia Palermo. La Presidenza, spiega Catalano, attende che la bozza del bilancio venga trasmessa dagli uffici competenti e che a consiglieri comunali aggiunge è stata già inviata copia di quanto è in possesso di questo ufficio. L'ospicio è che tematiche serie nell'interesse dell'intera collettività vengano affrontate con atteggiamento bi-baptisan, oggettivo e maturo, sottolinea Daniela Catalano, piuttosto che utilizzate come occasioni di attacchi faziosi e strumentali a cause meno elevate ed anche ormai facilmente intuibili, chiaramente estranee, al concetto di bene comune. Grazie a tutti.